Protesta dei camici bianchi davanti all'ospedale San Bortolo di Vicenza contro le aggressioni sempre più frequenti a medici e infermieri. Casi che secondo gli operatori sanitari stanno aumentando un centinaio all'anno solo a Padova. Una situazione, dicono le istituzioni, che si è esacerbata con la pandemia. Anche per questo in Prefettura Venezia si è svolto un vertice per affrontare il problema. Breve avremo da una parte la possibilità di una formazione del personale attraverso questa iniziativa forze di polizia, autorità sanitarie locali e dall'altra parte un potenziamento dei presidi sanitari soprattutto laddove c'è bisogno, c'è necessità anche in vista della stagione estiva. Il Prefetto Lamberto Giannini, capo della polizia, ci ha dato delle direttive precise di ripristinare quelli che venivano chiamati i trappelli di polizia negli ospedali. Siamo già operativi negli ospedali e nelle città, siamo lavorando per quello nelle periferie e nella provincia. Maggiore formazione e interazione dunque tra forze di polizia e operatori sanitari sempre più spesso, soprattutto nei pronto soccorso, ma non solo, alle prese con situazioni difficili per l'alterazione di chi dovrebbero curare. Se ne vedono di tutti i colori. Quando le persone sono alterate, sono in difficoltà, tirano fuori il peggio e noi siamo lì per potergli dare la risposta migliore.